Vi chiedo di darmi una mano. Questa ragazza alle mie spalle si chiama Allegra Casizzone. Manca da stamattina, dalla tarda mattinata, più o meno da Trieste. Vive a Trieste con la madre e si chiama Allegra Casizzone. Questo l'appello diffuso sui social network dalla famiglia dopo la sua scomparsa nel pomeriggio di ieri. Prima il padre Sergio, che vive a Napoli, pubblica alle 16.15 un tweet con l'annuncio della scomparsa. Poi la madre va a fare denuncia ai carabinieri di Via dell'Istria. La madre stessa, infatti, ha trovato in casa il cellulare della figlia senza la scheda SIM. La giovane avrebbe riferito ad un amico in mattinata che avrebbe staccato un po' dai social. La ragazza avrebbe con sé anche una discreta somma di denaro. Questa la descrizione della diciassettenne. Ha 17 anni, è alta più o meno un metro e settanta, qualcosa in più, ha gli occhi molto azzurri e i capelli non sono del colore che vedete nella foto, ma sono rossi. Vi prego, il papà vive a Napoli, la mamma vive a Trieste. Non sappiamo niente di lei dalla tarda mattinata. Vi prego di darmi una mano a trovarla. Il video postato sui social è denuncia Cangiano, moglie del padre di Allegra. La donna ha riferito che la ragazza, studente dell'Istituto d'Arte Nordio, era vestita con una maglia nera lunga, un top bianco sotto e pantaloncini jeans al momento della scomparsa. Due segnalazioni la collocherebbero nel pomeriggio di ieri sugli autobus della linea 21 e 15, ma manca ancora un riscontro certo. La prefettura di Trieste ha attivato il piano per la ricerca di persone scomparse. Gli uomini dell'arma indagano con l'ipotesi di allontanamento volontario, informati i presidi di frontiera e la polizia ferroviaria. Ovviamente i numeri d'emergenza, come il 112, sono disponibili in caso di segnalazioni. La famiglia ha però messo a disposizione anche un cellulare. Se la vedete potete contattarmi a questo numero di telefono, 333 50 61 812. Io mi chiamo Nunzia, grazie mille, se mi potete dare una mano ve ne sarò riconoscente. Grazie.